buonasera a tutti ragazzi oggi parliamo di cause di incidenti e di come comportarsi in caso nel caso in cui ci si ritrovi coinvolti in un piccolo incidente allora io dico sempre una cosa è una lezione relativamente importante perché è inutile che ci raccontiamo delle frottole ci ritroveremo tutti prima o poi nella vita coinvolti in un incidente la speranza è che sia piccolo e la speranza è che non sia nostra la responsabilità è la colpa di quell'incidente ma io tutte le volte dico che tutte quelle persone e di solito sono persone molto anziane che ti dicono io la patente da 60 anni e non ho mai fatto un incidente di solito mi viene da pensare che forse ti sei ormai bollito il cervello e non te lo ricordi più ok perché per la legge delle probabilità ci finiamo tutti di mezzo ok magari ti tamponano magari sei fermo un semaforo e quello dietro si distrae ti tampona voglio dire tu non c'entri niente ma alla fine in un incidente ci sei finito ok quindi è inutile raccontarselo in una vita da automobilisti capita per forza dobbiamo sapere due o tre cosine su come comportarci nel momento in cui avvenga un incidente anche perché io lo dico sempre soprattutto la prima o le prime volte c'è un po di agitazione un po di paura un po di non sapere come comportarsi e di non sapere a cosa si va incontro quindi diamo due informazioni partiamo con le cause più probabili degli incidenti stradali questa è una cosa su cui i quiz un pochino puntano ma la trovo abbastanza banale nel senso che con come dicevamo ieri tanto così di cervello uno capisce se è una causa se questa tale cosa può essere causa di incidente o no voglio dire non servo io a dirvi che più alta è la velocità e più è probabile finire a fare un incidente giusto avete bisogno di me per sapere che una strada coperta di ghiaccio potrebbe essere una causa di incidente no ok sono sempre le solite cose voglio dire le cause di incidenti potrebbero essere racchiuse nell'alta velocità nelle condizioni del veicolo perché se ho le gomme lisce perché se ho i freni consumati perché se ok nelle condizioni della strada perché come ci dicevamo ieri se è tutta curve ho poca visibilità se è tutta sconnessa e quindi ho poca aderenza nelle condizioni del tempo perché la pioggia renderà la mia fra la mia aderenza meno presente perché il ghiaccio meno ancora perché magari il sole mi abbaglia e ovviamente anche alle condizioni mie non lo so sono l'unico che ha un déjà vu quando parla di queste cose o vi pare che ne abbiamo già parlato di recente e sono le stesse di cui abbiamo parlato ieri per la distanza di sicurezza d'altro canto voglio dire io devo valutare tutte quelle cose per decidere a che distanza stare dalla macchina che ho davanti per non sbattergli contro giusto e quando sbaglio una di quelle valutazioni cosa succede è che sbatto contro la macchina che ho davanti e quindi vedete che sono le stesse cose quando le segui le ci ragioni e ci stai attento e eviti gli incidenti e se invece non ci stai attento non le segui e non ci ragioni è più probabile che tu finisca a fare incidenti per cui stiamo parlando sempre di quelle cose lì però ieri la guardavamo dal punto di vista dello starci attenti per evitarlo e oggi la guardiamo dal punto di vista del fatto che non ci siamo stati attenti e purtroppo un incidente è successo ok ora è chiaro che nel momento in cui noi si fa un incidente contro un altro automobilista motociclista camionista autista di pullman ok non è che per forza debba essere una macchina ma facciamo finta sono due le possibilità potremmo essere stati noi a causa dell'incidente oppure potrebbe essere stato l'altro automobilista a essere causa dell'incidente e noi ritrovarci coinvolti senza averne una responsabilità reale ok diciamo che questa questione all'inizio della situazione non ci interessa io nel momento in cui faccio un incidente con mario la mia prima preoccupazione non è di chi è la colpa e chi ha ragione quella è una preoccupazione che eventualmente la prima preoccupazione che dobbiamo avere quando facciamo un incidente qual è per sapere come sta le persone si è fatto male qualcuno questa è la prima domanda che ci dobbiamo fare sempre ok perché perché a seconda della risposta cioè no non si è fatto male nessuno oppure sì qualcuno si è fatto male il mio comportamento cambierà in maniera totale d'accordo sono proprio due cose completamente diversi se ci si ritrova in un incidente in cui nessuno si è fatto male o se ci si ritrova coinvolti in un incidente dove si dice nelle schede nel gergo dell'autoscuola nel quale c'è un ferito ok perfetto ora a me piace sempre dire questa cosa è vero che ci sono degli incidenti dove non abbiamo dubbi sul fatto che qualcuno si sia fatto male ok io dico sempre una cosa qualcuno di voi mi avrà sentito raccontare probabilmente nel tempo di quella volta in cui ho soccorso un mio amico che ha fatto un grosso incidente in moto e si è rotto il femore e aveva un femore a vista fuori dalla gamba ne parleremo in futuro quel ragazzo fondamentalmente non ha visto uno stop ha tirato dritto da uno stop e ha preso in pieno lato del cofano di una macchina che arrivava da destra e aveva la precedenza ok l'ambulanza l'abbiamo chiamata in due l'ho chiamata io che ero sulla mia moto dietro di lui ho visto l'incidente e l'ha chiamata anche il signore che abita nella casa di fianco a cui è successo questo incidente perché perché lui stava facendo colazione in una casa con la cucina col piano sopraelevato quindi non proprio un primo piano ma neanche proprio un piano terra una via di mezzo e questo signore ha detto che mentre stava bevendo il caffè ha visto solo la moto del mio amico passargli davanti alla finestra lui ha detto io ho visto una moto che volava in pezzi e mi passava davanti alla finestra ho preso il telefono e ho chiamato il 118 senza neanche guardare fuori ha detto lui perché era ovvio che qualcuno si era fatto male ok quindi è ovvio che se faccio un incidente con un motociclista e vedo la moto esplodere il motociclista volare via cadere rotolare strisciare poi sbattere e sicuramente si sarà fatto male ok a quel punto è solo da capire quanto male potrebbero essere solo un po di botte o potrebbe addirittura essere morto però di sicuro si è fatto qualcosa viceversa se Mario è fermo al semaforo rosso e io arrivo da dietro un po distratto mi accorgo all'ultimo freno ma nel frenare è un po tardi e mi appoggio al paraurti di Mario ma gli ho sbattuto contro a 4 all'ora ok paraurti su paraurti probabilmente nessuno si sarà fatto male giusto giusto ok dico sempre la solita cazzata però probabilmente non datelo per scontato non è detto che perché l'incidente è stato molto piccolo e molto leggero allora di sicuro nessuno si sarà fatto male perché Anna sa già cosa stavo per dire basta che Mario fosse fermo al semaforo con un gomito appoggiato al volante un dito nel naso e quel piccolo tamponamento a 4 all'ora è stato abbastanza perché lui si facesse male ok o che ne so un bambino con un giochino in bocca e quel piccolo tamponamento è abbastanza perché si faccia male ok oppure c'era che ne so la mia fidanzata che era piegata in avanti a cercare qualcosa in borsa e quel piccolo tamponamento gli ha fatto picchiare la faccia sul cuscotto faccio per dire ok quindi non diamo per scontato che siccome l'incidente è stato però vada poco nessuno si sarà fatto niente non è per forza detto chi è? quindi se io faccio un incidente per quanto questo piccolo possa essere la prima cosa è sempre capire se qualcuno si è fatto male ovvio l'essere umano nasce egoista per cui se io tampono Mario il primo pensiero è capire se mi sono fatto male io giusto? ma questo è normale per tutti voglio dire e poi in macchina con me c'è qualcun altro subito dopo capire se mi sono fatto male io dovrò capire se sono fatto male chi c'è in macchina con me dopodiché scenderò dalla mia macchina andrò verso la macchina di Mario e mi accerterò di come sta lui e chi eventualmente c'è in macchina con lui ok? ora supponiamo che quel tamponamento che ho fatto con Mario a due chilometri orari come presumibilmente dovrebbe essere nessuno si sia fatto niente eravamo solo Mario sulla sua macchina io sulla mia gli sbatto contro scendiamo tutte e due ci troviamo a metà strada fra le due macchine si è fatto male no e tu neanche perfetto grazie al cielo nessuno si è fatto male ecco a questo punto potrei cominciare a pensare chi ha torto e chi ha ragione ovvio nell'esempio specifico dove io ho tamponato Mario e non c'è niente da dirsi voglio dire la colpa è la mia punto e basta ok però l'incidente potrebbe anche essere una questione un po più complicata di un tamponamento e allora sì magari dobbiamo riflettere su chi ha ragione e chi ha torto ma sebbene sia questa la cosa che ci passa per la testa ancora una volta non è la priorità nel momento in cui si è fatto un incidente e nessuno si è fatto male la priorità dovrebbe essere liberare la carreggiata per lasciare il transito libero agli altri utenti della strada quindi io e Mario ci tamponiamo scendiamo dalla macchina se hai fatto male no tu nemmeno e spostiamo le nostre macchine da in mezzo alla strada ok ora la cosa come scusa fuori dalla strada ecco se è possibile sì stavo proprio per dire la cosa migliore sarebbe portarle fuori dalla carreggiata dico una cazzata se abbiamo così fortuna io e Mario da aver fatto questo piccolo tamponamento che ne so vicino a un supermercato magari ci fermiamo nel posteggio del supermercato a fare tutto quello che dobbiamo fare ok così fuori dalla carreggiata non rompiamo le balle a nessuno magari questa possibilità non ce l'abbiamo magari siamo su una strada dove non c'è un fuori dalla carreggiata o magari una delle non è stato un incidente così piccolo per quanto nessuno si sia fatto male e una delle due macchine non è in grado di poter fare chilometri allora quello che facciamo almeno è portarle il più a destra possibile per fare in modo di lasciare più libera possibile la strada io dico sempre questa cosa secondo me è capitato a tutti voi di essere in giro in macchina fare magari 10 20 minuti di coda per poi scoprire che sono due idioti che si sono appena appena toccati e stanno facendo la costatazione amichevole appoggiati sul baule della macchina ferma in mezzo alla strada che ti dici ma cazzo ma spostati e lasciami andare a lavorare ok quindi se non ci sono feriti se i danni sono solo materiali quello che dovremmo fare è liberare la strada il più possibile per lasciar scorrere il traffico una volta che ci siamo chiariti che nessuno si è fatto male che abbiamo spostato i veicoli a quel punto ci mettiamo a parlare su chi è torto e chi ha ragione d'accordo ci siete una volta che abbiamo trovato una quadra o facciamo una cosa che si chiama constatazione amichevole ne parleremo in futuro quando parleremo di assicurazione o se magari non troviamo un accordo perché mario è convinto di avere ragione lui io sono convinto di avere ragione io e non si trova un accordo vi dirò come fare quando parleremo di assicurazione diverso è il concetto e ciò che dobbiamo fare noi nel momento in cui nell'incidente qualcuno si è fatto male ok se nell'incidente c'è un ferito il mio comportamento cambia in maniera totale ok e attenzione non solo il mio comportamento cambia in maniera totale ma anche le cose che devo fare cambiano in maniera radicale partiamo da un presupposto a nello specifico probabilmente sono quasi convinto nessuno di noi è un medico ok e anche se uno di noi fosse un medico non avrebbe il potere di fare una radiografia con gli occhi o un attack con gli occhi ok quindi nel momento in cui io faccio un incidente con qualcuno e qualcuno si fa male io non posso sapere quanto questa persona sia danneggiata mettiamola così ok cioè è chiaro che se io faccio un incidente con un motociclista e lo trovo in mezzo a una pozza di sangue che perde sangue dagli occhi e dalle orecchie posso pensare che è un danno grosso ok ma se invece io tampono mario 2 allora mario scendicendo aia che male il gomito aia aia io presumo sia solo una bottarella ma non ne posso essere sicuro ok quindi io mi comporto come un incidente conferito preferisco sentirmi dire poi dai soccorritori guarda in realtà non era niente che sottovalutare una situazione per poi scoprire che invece era più grave ok quindi nel momento in cui qualcuno dice aia mi fa male per me è un ferito alla stessa maniera di uno che sta vomitandosi l'intestino ok è la stessa cosa per me e cosa succede quando c'è un ferito in un incidente ecco partiamo da un concetto non tanto da quello che dobbiamo fare ma capiamo qual è il problema nel momento in cui una persona si fa male durante un incidente in un incidente stradale quanto male si è fatto potrebbe far cambiare completamente le sorti della persona con cui ha fatto l'incidente cioè se io faccio un incidente con un motociclista e lo sbriciolo anzi vi faccio questa domanda chiedo a chi la conosce già come Anna di non dare risposte ma se io in macchina sbatto fortissimo contro uno in moto ma parliamo di quegli incidenti devastanti dove le moto esplodono in mille pezzi e il motociclista vola via e atterra decine di metri più avanti di chi è la colpa dell'incidente di tutti e due e come fai a dirlo quello che non aveva la precedenza ecco di solito quando dico questa cosa tutti mi sentono dire che io sbatto contro un motociclista e lo sbriciolo e la prima risposta che mi danno è la colpa è tua e perché mai cioè nella domanda che vi ho fatto non avete abbastanza dati per dire di chi è la colpa potrei essere passato io col semaforo verde al motociclista oltre il limite di velocità col rosso e io che colpa ne ho come potrei essere passato io col rosso distratto e aver preso un povero cristo in moto che andava a 40 all'ora ok e le cose cambiano enormemente ora se il motociclista è passato col rosso a 200 all'ora in città e io l'ho preso perché passavo col verde me lo sono trovato davanti io ho delle colpe no io passerò dei guai esatto ma viceversa se io ero quello distratto magari al telefono magari un po ubriaco che passa un semaforo col rosso e prende pieno un motociclista e lo sbriciola avrò delle problematiche io nella vita è probabilmente sì ok qual è il discorso però chi decide di chi è la colpa in un incidente di quel tipo io e il motociclista svenuto per terra i vigili la polizia i carabinieri a seconda di chi arriverà a seconda di dove saremo ok ma come fa la polizia a decidere se la colpa è mia oppure del motociclista e dovrà capire da dove arrivava il motociclista da dove arrivavo io calcolare quanti metri di frenata quanti segni di frenata quanti metri di segno di frenata per terra ha lasciato la moto e quanti io per capire a che velocità andava lui a che velocità andavo io se ci sono in giro trovare dei filmati di telecamere per capire chi aveva la precedenza e chi no ok ecco che proprio per non rischiare di prendere una colpa quando non ce l'hai ok o anche di evitarsi una colpa che uno ha la regola ci dice che nel momento in cui una persona è ferita in un incidente noi i veicoli non li spostiamo ok devono restare lì fermi dove sono e non importa che uno dei due sia quasi morto oppure che uno dei due dica aiaia mi fa male la spalla fa niente resta tutto li fermo chiameremo i soccorsi arriverà l'ambulanza a soccorrere il ferito e la polizia oppure carabinieri oppure vigili dipende a fare i rilevamenti e capire di chi è la responsabilità dell'incidente ok quindi la prima cosa che dobbiamo imparare è che se nell'incidente qualcuno si è fatto male e non ci frega niente di quanto male si è fatto noi non muoviamo mai i veicoli da dove sono non importa se facciamo fare coda per tutta la città ok li sposteremo quando la polizia avrà fatto i suoi rilevamenti li sposteranno quando la polizia avrà fatto i propri rilevamenti d'accordo ci siamo fino a qua perfetto ora arriva il problema due io faccio un incidente con una persona questa persona si fa male io non devo muovere i veicoli ma se questa persona si è fatta male cosa dovrò fare chiamare i soccorsi ma anche più in generale più in generale voglio dire io faccio un incidente con uno si è fatto male chiamo i soccorsi ma io dovrò anche aiutarlo soccorrerlo perfetto soccorrere un infortunato della strada è obbligatorio ok è obbligatorio anche qui facciamo una piccola digressione quando le schede vi chiedono soccorrere un infortunato della strada è obbligatorio intendono dire sempre che quella persona sia infortunata in un incidente che ha fatto con te ok quindi io faccio un incidente con qualcuno quel qualcuno si fa male io ho l'obbligo di soccorrerlo che poi sia colpa mia colpa sua non importa eh sei coinvolto nell'incidente hai l'obbligo di soccorrerlo ma la realtà dei fatti è che sia l'obbligo di soccorrere un infortunato della strada anche se l'incidente non lo ha fatto con te cioè io potrei fermarmi a soccorrere anche un motociclista che ha fatto un incidente contro Mario magari perché Mario in quel momento è talmente tanto agitato che non sta riuscendo a fare quello che deve fare ok oppure potrei anche girare una curva e trovare un motociclista che è caduto da solo e io mi fermo a soccorrerlo o un'automobilista che si è distratto e ha sbattuto contro un palo e io mi fermo a soccorrerlo anche in quel caso è obbligatorio ok non soccorrere un infortunato della strada è un reato per cui parliamo di codice penale che si chiama omissione di soccorso d'accordo perfetto ora capiamoci ancora una volta la cosa più importante per guidare un veicolo a motore è il buon senso per cui se stiamo parlando di obbligo di fermarmi a soccorrere un infortunato dobbiamo sempre usare un po di intelligenza cioè è una ragazza con in macchina due bimbi piccoli quella che gira una curva e si trova un motociclista che è caduto da solo ed è in mezzo a una marea di sangue e magari non mi fermo per far vedere quella scena a due bambini attenzione non vuol dire che me ne frego vuol dire che non mi fermo lì sul posto giro l'angolo fermo la macchina chiamo i soccorsi ok magari cerco qualcuno che vada ad aiutarlo magari lascio lì i bambini se possono grandi abbastanza e corro io ad aiutarlo d'accordo chiaro che se quella ragazza con i due bambini in macchina fosse quella che ha passata sopra quel motociclista allora nonostante i due bambini si deve fermare a soccorrerlo ok usiamo sempre un po di buon senso prima mi avete detto qualcuno mi ha detto sapendo già di cosa stessi parlando una cosa giustissima che però ci diciamo ora quando io faccio un incidente o arrivo sul luogo di un incidente trovo una persona ferita non devo spostare le macchine devo soccorrere questa persona ma prima di tutto ciò si dice devo mettere in sicurezza il luogo dell'incidente cioè devo evitare che a questa persona ferita possa succedere qualcos'altro oltre a quello che gli è già capitato o peggio ancora in quella situazione che qualcosa possa succedere a me intanto che sto soccorrendo una persona perché se c'è già una persona ferita e io mi faccio investire mentre lo soccorro a quel punto le persone da soccorrere diventano due ok è un soccorritore investito non è utile a nessuno quindi come prima cosa dobbiamo cercare di evitare che possa succedere qualcosa di peggio come segnalando l'incidente mettendo che ne so la macchina con le quattro frecce accese in mezzo alla strada possiamo ripeto possiamo possiamo anche farci aiutare ok non è che devo fare tutto da solo io io faccio sempre questa domanda ma se voi foste la macchina appena dietro alla macchina che c'entra quel motociclista vi fermereste io sì certo una persona con un po di cuore certo che sì ok quindi se io sbatto contro un motociclista e lo sbriciolo e in macchina dietro me c'è Mario che si ferma io potrei sempre dirgli ascolta io vado a soccorrere il ragazzo tu Mario mettiti in mezzo alla strada e blocca il traffico ok e mettici in sicurezza ragioniamo se questo incidente mi succede in centro Varese adesso a quest'ora sicuramente c'è in giro dietro di me qualche macchina che si fermerà a darmi una mano giusto qual è il caso in cui rischio di non avere aiuto da nessuno quello in cui magari questo incidente succede in una strada extraurbana di notte piena ok che ne so sono tra le montagne sopra Luino faccio un incidente alle due di notte chi cazzo ci deve essere in giro però siamo sempre lì se adesso in centro Varese io sto rischiando di essere investito se è notte sono in mezzo ai monti sopra Luino probabilmente tutto sto traffico in giro a farmi rischiare la vita non ci sarà ok quindi troviamo sempre il buon compromesso una volta messo in sicurezza al luogo dell'incidente non spostati i veicoli devo attuare quello che si chiama un primo soccorso non andiamo troppo in sbattimento col primo soccorso nessuno sta parlando di manovre mediche nessuno sta parlando di chissà quale situazione bisognerà affrontare il primo soccorso per definizione è quel soccorso che può essere dato da chiunque nei confronti di chiunque altro cioè voglio dire una mamma che mette un cerotto a un ginocchio di un bambino sbucciato è un primo soccorso ok ma anche quando dico una roba brutta è perché mi è capitata poco tempo fa ma anche quando durante il pranzo di Natale il nonno novantenne di colpo si spegne e crolla con la faccia nel piatto e tu gli chiami l'ambulanza e non si sta riportando anche quello è un primo soccorso ok non è che dobbiamo pensare solo agli incidenti stradali quando si parla di primo soccorso che è diverso dal soccorso specializzato che è quello che metteranno in atto i sanitari una volta che saranno arrivati a soccorrere questa persona ok il primo soccorso è molto meno il primo soccorso è solo come dire dare conforto a questa persona stargli vicino capire se ha delle esigenze che possano come dire alleviargli la pena visto nella situazione in cui già è e soprattutto chiamare i soccorsi la chiamata ai soccorsi è forse la parte fondamentale più precisi riusciamo essere noi quando chiamiamo i soccorsi più precisi saranno i soccorritori quando arriveranno a soccorrere precisi e veloci perché se hanno già le idee chiare di quello che gli aspetta arrivano già pronti se devono arrivare fare tutta la diagnosi prima di iniziare a intervenire è chiaro che si perde del tempo ovvio che se arrivano con le idee sbagliate perché quello che gli hai detto tu erano tutte stronzate e allora sarà peggio ancora ok dovranno arrivare capire che quello che per cui erano preparati non è quello giusto capire cosa succede a quel punto intervenire quindi il momento della chiamata al numero di soccorso è importantissimo qui arriva il grosso problema che probabilmente quando facciamo un incidente e questa e feriamo una persona cioè parliamo di aver fatto un incidente noi e quella persona si è fatta male probabilmente noi avremo un'agitazione tale che non ci porterà ad essere troppo lucidi né in quella chiamata né nella valutazione del problema ok è quello che le schede ce lo diremo poi tra poco è quello che le schede chiamano lo stato di shock ok è chiaro che se io investo un pedone non lo ammazzo magari gli rompo una gamba quello sarà scioccato sarà in stato di shock giusto e io che l'ho investito anche tu è probabilmente anche capito per cui anche per me intervenire non sarà così facile ecco perché è sempre bene se dietro di me c'era mario che si ferma e da una mano a tutti e due forse è la cosa più sensata o forse scoprirete come l'ho scoperto io che nei momenti in cui ce n'è bisogno viene fuori una lucidità inaspettata ok io l'ho sempre detto io sono uno di quelli che per tanti anni sveniva vedendo la car il sangue lasciato dalla carne nella carta del macellaio ok ma quando poi mi trovo nei casini veri in mezzo agli incidenti brutti dove il sangue è tanto perché qualcuno sta male reagisco forte e riesco a far poi magari svengo quando finisce tutto ok però in quei frangenti lì mi viene fuori un coraggio che non sapevo nemmeno di avere e quello lo si scopre quando ci si trova in mezzo ma alla stessa maniera potresti anche paralizzarti e bloccarti ok succede anche questo quindi in quei momenti lì se c'è qualcuno che ci dà una mano è sempre meglio anche qualcuno disconosciuto anche perché torniamo al concetto primo soccorso la parte fondamentale è portare assistenza a questa persona infortunata fargli capire che c'è qualcuno che si sta occupando di lui e stargli vicino questa è la parte più importante più ancora di tutto ciò che di medico potreste fare ok io dico sempre questa sciocchezza ma non è una sciocchezza io l'ho provata in tutti e due i sensi cadere in moto o fare un piccolo incidente in moto ed essere sdraiato per terra allora magari neanche troppo sofferente magari non ti sei fatto male però lo sai che quando cadi in moto qualche rischio ce l'hai sempre ok quindi sei per terra sei fermo e sei preoccupato avere una persona accanto a te che ti dice guarda non ti preoccupare ho già chiamato l'ambulanza stanno arrivando eh ci sono qua io adesso arrivano i soccorsi oppure essere buttato lì per terra da solo sì con gente attorno ma nessuno che ti caga nessuno che ti dice niente tu non sai neanche se l'ambulanza l'hanno ancora chiamata io vi giuro che fa una differenza enorme ok al lato pratico nessuna ma al lato umano fa una differenza gigantesca quindi intanto dare a questa persona infortunata come dire la consapevolezza del fatto che qualcuno si sta occupando della situazione già fa tanto ok dopodiché potremmo anche fare qualcosina di più e intervenire al lato pratico ammesso che noi si sappia quello che si sta facendo ammesso che noi ce la si senta di fare qualcosa ok e senza fare cose che vanno al di là della nostra portata della nostra conoscenza è difficile lo so è molto difficile però contate anche che noi siamo non lo so da un lato per come la vedo io sfortunati dall'altro forse fortunati e questa lezione che poi saranno probabilmente due quelle che faremo sul primo soccorso sono tutto quello che dovete sapere per riuscire a fare una patente per riuscire a prendere una patente ci sono stati europei che richiedono un corso di first aid come quello che fai per diventare volontario di croce rossa prima di poterti scrivere a fare la patente ok ecco secondo me sarebbe intelligente sarebbe ma secondo me sarebbe bene che tutti noi lo facessimo a prescindere dalla patente nel senso però ad altro canto è una rottura di palle ci vuole del tempo devi studiare per cui forse è più comodo così questo per dire che ci sono due tre cosine che tutti sappiamo e tutti siamo in grado di fare durante un incidente ci sono due o tre cosine che bisogna come dire saperle un po meglio averle magari già non dico provate ma viste noi ce le diciamo tutte e ce le diremo tutte ma poi quando siete in quei momenti li ripeto fate solo ciò che vi sentite e ciò che siete sicuri di fare a faccio un esempio tutti di solito magari se c'è qualcuno di voi che non lo sa non si senta in difetto ma normalmente tutti anche i sassi e anche i bambini sanno che se facciamo un incidente forte con un motociclista la cosa che non bisogna mai fare è togliere il casco togliere il casco mai togliere il casco a un motociclista che ha fatto un incidente o che è caduto ripeto lo sanno anche i sassi lo sanno anche i bambini io credo che nessuno di noi se vedesse mai un motociclista fare un brutto incidente o una brutta caduta andrebbe lì dicendogli dai o levati il casco ok nessuno lo farebbe però io vi giuro e vi parlo per esperienza personale l'ho visto un sacco di volte che se un motociclista cade e fa una brutta caduta o anche un incidente peggio ancora se riesce a rialzarsi se non è così demolito da non riuscire a muoversi se ha un minimo di forza per muoversi è lui che si toglie il casco eppure lo sa che non deve ma in quei momenti lì un po ti manca l'aria un po ti senti soffocare un po sei oppresso e non ci pensi più la prima cosa che ti viene in mente è levare il casco quindi io lo so che nessuno di voi andrebbe da un motociclista dopo un incidente a dirgli togliti il casco ma voi dovete sapere che se per sbaglio fate un incidente con un motociclista probabilmente dovrete essere voi a correre da lui e urlargli non ti levare quel casco ok è questa la vera realtà e ripeto e io ho visto gente togliersi il casco dopo incidenti gente che lo sapeva perfettamente che non andava fatto ok ma in quel momento lì interviene quello che chiamiamo uno stato di shock che non ti fa più ragionare in maniera lucida ok che ti fa solo correre un pochino dietro agli istinti e se l'istinto in quel momento levare il casco perché faccio faticare espirare non ci pensi più che potrebbe essere pericoloso ripeto problema in stato di shock sarà quel motociclista probabilmente in stato di shock sarò anch'io ok e in quel momento deve vincere il mio stato di shock deve essere come dire più controllabile del suo visto che lui oltre allo stato di shock avrà anche qualche altro danno e io essere pronto a correre lì e dirgli non ti levare il casco quindi questa cosa più o meno la sapevate tutti ce la siamo detta ma va bene così e probabilmente invece non tutti sapete come comportarvi quando che ne so c'è un trauma la cassa toracica faccio per dire ok quindi noi ora daremo quelle che sono le linee guida del primo soccorso nei casi più come dire probabili nei casi dove che più facilmente potremmo vedere a seguito di un incidente e anche quelli dove noi potremmo intervenire perché è chiaro che quando il problema è troppo grosso io non posso farci niente o che c'è io nessuno a parte i soccorritori medici e gli ospedali quindi prima distinzione che facciamo infortunato della strada cosciente oppure infortunato della strada incosciente senza coscienza ok un infortunato della strada incosciente quindi svenuto non ti potrà dire dove ha fatto dove gli fa male non ti potrà dire dove ha picchiato non ti potrà dire cosa è successo ammesso che l'incidente non l'abbia fatto con te perché a quel punto lo sai anche tu cosa è successo ok e quindi le informazioni che tu potrai avere da lui quando chiamerà i soccorsi saranno veramente poche d'accordo però però non ti insulterà non urlerà non cercherà di togliersi il casco quando non deve non cercherà di muoversi in caso non debba ok quindi ha dei lati positivi io dico sempre la stessa cosa il problema è che se io faccio un incidente con un motociclista che alla fine del rotolare strisciare e sbattere quando finalmente quel corpo si ferma lo trovo privo di sensi probabilmente il mio primo pensiero sarà quello di averlo ammazzato ok sbaglio vi distraete prendete pieno una moto vedete uno volare via e schiantarsi la andate a vedere non si muove non respira il pensiero è quello cazzo è morto non è detto che lo sia ok come facciamo noi a sapere se lo è o non lo è beh possiamo vedere se gli batte il cuore e possiamo vedere se respira il battito del cuore noi lo possiamo rilevare dal polso dalla carotide della giubulare scusate meglio ok ovviamente anche dal petto d'accordo l'importante nel momento in cui sentiamo il polso dal polso oppure dalla gola e farlo con queste due dita e mai con il pollice d'accordo dal pollice rischiate di sentire il vostro battito il pollice ha una grossa arteria che lo attraversa d'accordo se non riusciamo a sentire se il cuore batte perché magari a un motociclista e addosso dei guanti a un casco integrale a un sottocasco a una giacca allacciata fino in alto ok e quindi non ci è possibile capire se il cuore batte possiamo sempre capire se la persona respira ok come facciamo appoggiando una mano nella parte bassa laterale del ventre sulla pancia se respiratevi gonfiate non si scappa ok ok d'accordo nel momento in cui sappiamo che quella persona è solo svenuta e non è morta allora chiamiamo i soccorsi lo faremmo anche sapendo se è morta che è morta voglio dire ovviamente abbiamo molta più urgenza nel caso in cui quella persona sia ancora viva abbiamo un problema nel momento in cui una persona sviene e per come la vedo io abbiamo un grosso problema da un punto di vista quiz ok le schede vi dicono che nel caso in cui un infortunato della strada abbia perso conoscenza noi dobbiamo metterlo in una posizione che si chiama laterale di sicurezza la sto cercando e ve la faccio vedere adesso la posizione laterale di sicurezza che ridere questa immagine è proprio quella che ci hanno fatto vedere un corso in croce rossa settimana scorsa è questa ok la vedete sì sì abbiamo un problema perché la posizione laterale di sicurezza è la posizione migliore intanto la posizione laterale è la posizione più come dire neutra per il corpo umano nel caso di trauma ok perché è quella che tiene il sangue nella situazione migliore che non te lo fa andare tutto la testa o tutto verso le gambe ok per cui è la posizione più tranquilla in più è la posizione nella quale le tue vie respiratorie restano libere non rischi che ne so che la tua lingua ti si ribalti in gola cosa che succede spesso quando la gente sviene o che magari a causa di un incidente che ne so sia del sangue o del vomito ad obstruirti le vie respiratorie la posizione laterale di sicurezza ti fa respirare però abbiamo un problema io dico sempre questa cazzata se io una sera fossi a chiacchierare con Anna e Anna svenisse per un calo di zuccheri perché gli è passata la pressione per una roba del genere io la metterei magari in posizione laterale di sicurezza tranquillamente ok è sicura la posizione intendo funziona va benissimo ma qui parliamo di una persona senza sensi dopo un incidente stradale voi veramente lo spostereste lo muovereste ma chi lo sa che danno può avere quello e chissà quali danni posso fargli io muovendolo ok quindi il libro vi dice che un infortunato della strada privo di sensi va messo in posizione laterale di sicurezza io vi dico è rischiosissimo io vi dico che lo farei solo se fosse veramente a rischio di vita cioè sei svenuto dentro la macchina la macchina inizia a bruciare fanculo io da lì ti tiro fuori e a quel punto che ti ho già preso e tirato fuori già che ti appoggio per terra ti metto in posizione laterale di sicurezza ok ma se non c'è un rischio per la vita istantaneo io una persona svenuta dopo un incidente stradale non la toccherei ok chiamerei soccorsi aspetterei carino loro ci siete si però d'altro canto la speranza è quella di fare un incidente e trovare questa persona invece vigile sveglia ancora bella sana ok chiaro che questa probabilmente urlerà probabilmente ti manderà a cagare probabilmente cercherà di muoversi quando non dovrebbe e noi dobbiamo saperla gestire riuscire a gestirla intanto questa persona sicuramente sarà in stato di shock giusto la corretta posizione anti shock ora ve la faccio vedere è fondamentalmente sdraiati sulla schiena supini con le gambe alzate arrivo condividervela questa è la posizione anti shock ora secondo me nella vita vi hanno detto di mettere in questa posizione la gente che sviene è vero sì sì non è sbagliato in sé però siamo sempre lì se svieni per un calo di zuccheri cioè nel senso se mi svieni davanti perché che ne so per il caldo ok allora io potrei metterti in quella posizione lì perché si dice mettilo in quella posizione lì perché alzando le gambe il sangue arriva di più e più in fretta al cervello e la persona si riprende un pochino più velocemente ok ma siamo alle solite noi stiamo parlando di gente svenuta dopo un trauma quindi la posizione corretta non è quella quella è la posizione che va bene per lo stato di shock perché perché se dopo un incidente mario è super agitato io lo sdraio per terra gli alzo le gambe il sangue gli arriva al cervello e lo riossigena più in fretta e anche quello stato di shock va a passare più velocemente in più se sei sdraiato con le gambe alte non sei in giro a camminare in mezzo alla strada non stai muovendoti quando non dovresti non ti stai levando il casco se non te lo devi levare ok quella è la posizione anti shock la meglio come riconosco lo stato di shock e la persona sarà pallida starà sudando freddo ok avrai battiti molto deboli ma molto veloci cioè gli cerchi il polso e non lo senti e quando finalmente trovi il battito magari a cento battiti al minuto ok questi sono le i sintomi dell'oceano i sintomi scusate sono ciò che ci fa capire che la persona è instantly shock poi potremmo trovare un infortunato della strada con un arto fratturato una gamba un braccio rotto ok anche qui velocissimi ci sono delle fratture che vengono chiamate esposte come quella di cui vi parlavo prima del mio amico in moto cioè fratture dove le ossa si spaccano in due o più punti e una parte di ossa addirittura esce dai tessuti e si vede a vista ok quelle noi non vi dico che non le tocchiamo se possiamo non le guardate nemmeno ok ma addirittura io dico sempre questa cosa che suona un po come una cazzata ma vi giuro che è la verità se quello che mi ha investito e mi ha spezzato il femore di lavoro fosse un chirurgo ortopedico quindi uno che quei problemi li risolve lì sulla strada non mi toccherebbe nemmeno lui ok per cui figuriamoci se ci mettiamo noi a mettere le mani su una frattura esposta se non vedo un osso o se non ho avvisaglie del fatto che quella frattura è proprio brutta cioè io dico sempre la solita cazzata è chiaro che se io arrivo davanti a giovanna che è seduta su una sedia con il piede che invece che guardare in avanti guarda indietro posso pensare che quella frattura lì sia proprio brutta ok ma se io trovo solo uno che mi dice aia che male aia mi sa che l'ho rotto io non posso sapere quanto brutta è quella frattura e allora quello che faccio se posso è immobilizzare l'arto rotto e ci vuole un po di culo devo avere che ne so un ombrello un bastone una roba del genere magari però non ce l'ho io magari c'è la mario che era la macchina dietro di me si è fermato anche lui ok se trovo qualcosa con cui immobilizzare con l'arto rotto lo immobilizzo o se non ci riesco non lo faccio chiamerò i soccorsi dirò che c'è una frattura cercherò di fare stare questa persona il più ferma possibile con quell'arto il più fermo possibile e niente di più ci sono domande che vi chiedono per essere sicuro che quell'arto sia rotto fatti che parliamo di una gamba fai fare dei saltelli all'infortunato della strada ma è ovvio che no che cazzo lì bello fermo e aspettiamo che arrivino i soccorsi ok meraviglioso potremmo trovare una persona con un'emorragia quindi una perdita di sangue occhio ragazzi è che le emorragie che siamo abituati a vedere noi su di noi quando che ne so ci tagliamo con la carta piuttosto che col coltello mentre stiamo affettando la frutta non sono vere proprie emorragie ok cioè quelli sono dei capillari un po di cute che si è tagliata e butta un po di sangue quando parliamo di emorragie parliamo di vasi grossi che si sono rotti cioè vene o arterie e infatti noi dobbiamo conoscere questi due tipi di emorragie l'emorragia venosa e l'emorragia arteriosa scusate divento un po trash spero di non infastidire troppo nessuno giusto per capirci con la peggiore emorragia venosa cioè aver rotto la vena più grossa che porta più sangue io muoio dissanguato fra dei dolori atroci nel giro di qualche ora ok viceversa l'arteria sbagliata mi fa morire dissanguato in meno di un minuto ok già se ti recidi la giugolare o la femorale o la su clavia e non intervengono subito in meno di un minuto sei morto ecco perché le emorragie arteriose sono molto più come dire urgenti delle emorragie venose come riconosco un'emorragia arteriosa da una venosa beh l'emorragia venosa fa colare del sangue se io qua mi tagliassi il polso voi vedreste il sangue cominciare a colare sul mio computer ma se io qua mi tagliassi un'arteria voi vedreste il sangue zampillare come da una fontanella ok la differenza è questa le arterie hanno una pressione molto più forte e infatti ti svuoti in meno di un minuto ok e il sangue zampilla quando fuori esce mentre le vene hanno meno pressione e il sangue cola quando esce questo ci fa capire quale tipo di emorragia è ora come vi ho detto se l'emorragia è venosa vedrete tantissimo sangue ma non sarà una cosa così urgente cioè c'è qualche ora di tempo per intervenire d'accordo ragazzi vi dico una cosa che vi dico per esperienza e non tanto perché sto in croce rossa da che sono in croce rossa sangue non ne ho ancora visto ma nella vita ne ho vista una marea il sangue sembra tantissimo anche quando non lo è ok voi arrivate su vedete una persona che sta sanguinando dopo un incidente vedi sangue ovunque dice oh mio dio ne avrà persi due litri e magari quello che a te sembrano due litri di sangue per terra non è nemmeno mezzo litro vi faccio una domanda avete mai rovesciato un bicchiere pieno d'acqua quanta acqua va sul tavolo quando si rovescia un bicchiere intero pieno d'acqua un casino ti dici cazzo è solo un bicchiere dio bono eppure ti ha bagnato tutto il tavolo anche per terra i liquidi quando sono nei contenitori sembrano pochi e quando li rovesci sembra tantissimo anche il sangue fa questa impressione ok per cui tante volte sembra tantissimo in realtà non è così tanto quindi io mi accorgo che è un'emorragia venosa una vena quello che faccio è se posso sciacquo il taglio per evitare il più possibile problemi di infezioni ok dopodiché comprimo quel taglio con del materiale sterile o il più possibile pulito mi spiego meglio se ho un kit del primo soccorso avrò delle garze sterili e userò quelle perfetto se non ce l'ho e la scelta è fra la polo che ho appena messo pulita dopo la doccia o lo straccio che uso per pulire la plastina dell'olio quando controllo il livello dell'olio è chiaro che mi levo la maglietta ok tampono e poi chiamo i soccorsi se invece l'emorragia è arteriosa e la riconosco non me ne frega niente di sciacquare quel taglio le infezioni sono il problema minore qua bisogna intervenire perché altrimenti questo muore in fretta ok il libro ci dice che la cosa migliore sarebbe applicare un laccio emostatico ce l'avete in mente quel quel laccio di gomma che vi mettono sul braccio quando vi fanno i prelievi del sangue ok perché quello stringe tantissimo e quando l'emorragia è arteriosa noi dovremmo stringere quell'arteria il più possibile per fare in modo che arrivi meno sangue possibile il problema è che si va bene solo il con un braccio e solo dal gomito al polso perché tutte le arterie che passano nelle braccia alte o nelle gambe sono così tanto in profondità che con un laccio non riesce a stringere ok quindi le schede vi dicono usa un laccio emostatico voi mettete vero io vi dico nella vita di tutti i giorni ancora una volta tampona schiaccia più forte che puoi mettigli sopra qualcosa schiaccia più forte che puoi e chiama i soccorsi e fidati che quando gli dici sono sicuro che un'emorragia arteriosa quelli arrivano in frattissima perché lo sanno che di tempo ce n'è molto poco ora ragazzi le arterie che vi fanno morire in meno di un minuto ripeto sono la giugulare la femorale e la succlavia se è quello io prima ancora che io riesca a trovare una garza per tamponare quelle morte ok quindi purtroppo non ci sarà niente da fare se è un'arteria che interessa un braccio un dito una gamba ma non di queste fondamentali anche lì qualche minuto ce l'avete perché probabilmente ci mette un quarto d'ora a morire ma i soccorsi arrivano prima se chiamate dite arteria ok poi vi dico anche questa io tanti anni fa ho visto un mio amico tra l'altro medico recidersi un'arteria in un mignolo aprendo una confezione di un regalo di natale la mattina di natale dei suoi figli aveva in mano una forbice gli è scappata si è tagliato un mignolo e abbiamo proprio visto sangue iniziare a zampillare fino a sporcare la tenda della che era un metro più in là e io sono andato in sbattimento da morire gli ho detto mio dio carlo chiama il 112 subito lui si è messo a ridere ma teo si è un'arteria dice ma mica si muore per sta roba qua non ti preoccupare per cui anche lì arterie e arterie ma sappiate che con le arterie non si scazza un cazzo per cui se vedete sangue zampillare subito a comprimere e subito chiamare i soccorsi d'accordo perfetto adesso vi dico questa roba brutta anche perché poi al momento di fermarci andremo avanti lunedì vi dico questa roba brutta il problema vero è che potrebbero succedere anche più cose contemporaneamente cioè noi potremmo trovare una persona priva di sensi con una gamba rotta e un'emorragia cedere e a quel punto cosa facciamo ecco vi dico questo e poi la smetto di rompervi le balle che è il motivo per il quale io trovo che il lavoro del soccorritore sia il più difficile del mondo quando arrivi in una situazione del genere devi capire subito qual è la cosa più urgente e tutte le volte io dico facciamo una distinzione fra grave e urgente perché sono due cose diverse ok un cancro all'intestino è una roba grave ma non ti fa morire in meno di un minuto un'arteria recisa è urgente ok oltre che grave perché tra un minuto sei morto d'accordo quindi bisogna distinguere tra grave e urgente intervenire dalla questione più urgente e poi scendere per cui svenuto gamba rotta emorragia prima di tutto fermiamo l'emorragia ok poi pensiamo alla gamba rotta e poi pensiamo allo svenimento se è interna se è interna siamo sempre lì come fai cioè se è interna e lo capisci vuol dire che quella persona sanguina dagli occhi dal naso dalla bocca dalle orecchie ok e noi che cosa possiamo fare su una roba del genere niente se non chiamare i soccorsi dirgli oh questo perde sangue dappertutto d'accordo a volte le emorragie interne non ti fanno sanguinare esternamente ma tu lo puoi sapere no è capito ma io e te che siamo lì a guardargli addosso se non lo vediamo sanguinare dagli occhi e dalle orecchie non possiamo sapere che c'è un'emorragia interna lo scopriranno in ospedale voglio dire quindi purtroppo quella è una roba che noi non possiamo conoscere a quel punto dicevo e pensate quando un soccorritore arriva e non solo deve scegliere qual è la cosa più urgente da lì scendere a catena ma capire anche tra tutti chi ha bisogno di essere soccorso prima perché sai arrivano ed è uno solo quello che sta male vabbè soccorrono lui ma quando si arriva negli incidenti quelli brutti dove i feriti magari sono 30 40 ok tu arrivi pensate un incidente di un treno faccio per dire tu arrivi e ne trovi centinaia di persone ferite e lì devi trovare quello che ha più bisogno e poi capire tra tutte le cose che si è fatto quale è la più urgente è un casino eh è per quello che io vi dico se ne parliamo così di primo soccorso ma che cazzo serve? cioè in quei momenti lì servirebbe una formazione decisamente più seria che quattro idiozie che vi ho raccontato io no va bene ragazzi dai fermiamoci qua per ora le cose belle ce le teniamo per il futuro dubbi o domande? no no niente grazie perfetto allora ricordatevi che lunedì sera la chiamata alla lezione arriverà con il link di telegram per cui non aspettatevi la mia chiamata se ci sono problemi chiamatemi qui a Gazzada lunedì pomeriggio il numero è 0332 46 10 48 ve lo scrivo anche in chat a tutti quanti ammesso che riusciate a vederlo se no ve lo ripeto 0332 46 10 48 ma se lo cercate su Google lo trovate e per quello che riguarda il preesame di lunedì scrivetemi se volete farlo perfetto va bene?